Se non sbaglio abbiamo fatto le ultime 11 partite, compresa la Coppa Italia, abbiamo fatto 9 vittorie e 2 pareggi. È difficile chiedere di più a questi ragazzi, bisogna continuare così. È chiaro che con una marcia del genere sicuramente dovremmo avere qualche punto in più sulla seconda, perché quello che stiamo facendo è veramente qualcosa di eccezionale. Però Parma è fortissimo e non perde un colpo, se no il campionato sarebbe già archiviato. Però dobbiamo continuare così, insomma, una grande risposta perché questo non era un campo facile. È la prima volta che giocavamo su un sintetico, cambia tutto completamente. È anche difficile giocare sul sintetico, insomma, spero di non trovare campi del genere, perché è difficoltoso abbientarsi, è difficile il battito della palla, per cui oltre alla forza del teramo, per cui questa era una partita che nascondeva tante insidie. Però l'abbiamo giocata da grande squadra, abbiamo sofferto anche 20 minuti, ma non si può pensare di non soffrire su questi campi e con la qualità comunque che aveva in attacco il termo. Però la squadra è stata eccezionale, insomma, abbiamo fatto quattro gol. Ci siamo solo rilassati sul 3-0 e non puoi mai permettertelo, perché poi prendi gol anche se probabilmente non mi si mette che c'era fallo su di lui. Però va bene così, insomma, dobbiamo continuare questo passo. Adesso pensiamo a mercoledì, che abbiamo la finale da centrare, che sarebbe un altro grande obiettivo. Noi stiamo facendo, secondo me, oltre alle aspettative, perché questo è un gruppo nuovo di 20 giocatori nuovi, con qualità, ma sta sorprendendo anche me, sinceramente. Perché, come dicevo, tutti sanno che il Parma ha messo dentro giocatori di Serie A. Noi invece abbiamo messo giocatori importanti, che hanno creato un gruppo vero. Questa è una squadra dove tutti si allenano bene. Quando finisce una partita del genere mi dispiace per quelli che non ho potuto utilizzare, perché chi entra dà sempre delle risposte. Insomma, oggi abbiamo visto come è entrato a quadro, come è entrato Cernuto, che l'anno scorso giocava in Serie D, sembra, scherzando, detto che abbiamo messo dentro Baresi. È entrato Ferrari, dieci minuti, ha fatto gol ed è stato decisivo, come a San Benedetto. Queste sono risposte fantastiche per un allenatore. Ma il Teramo, io ho detto che, secondo me, la coppia d'attacco è una coppia d'attacco Barbuti-Sansovini impegnativa su un campo del genere. Infatti, insomma, Sansovini, a prima occasione, ci ha castigato. Penso che il Teramo possa salvarsi, insomma, glielo auguro, perché il Teramo ha passato anche periodi più fortunati, per cui, insomma, mi auguro di rivederlo in Le Grappol il prossimo anno.